Grazie a tutti. I momenti di cui discutere, Presidente, ovviamente parliamo dell'emergenza coronavirus, dei risvolti economici sul nostro territorio, anche per il settore dell'artigianato bellunesi, di questa pandemia che ha sconvolto tutto il Paese. Allora, partiamo proprio dalla fase più acuta per poi venire invece a questa ripresa, diciamo, di questo momento. La situazione è stata molto pesante, lo è comunque tuttora e gli strascichi purtroppo non si concluderanno in poco tempo. Quindi sicuramente è stato difficile, soprattutto il momento della chiusura, quindi del lockdown, dove tutto era fermo. Lo stop delle attività ha sicuramente gravato sull'economia generale e sull'economia delle singole imprese. E quindi noi, come artigiani, abbiamo cercato veramente di far comprendere, di trasferire l'importanza che potessero tenere aperte almeno le piccole attività, dove c'era un monoaddetto o comunque un'impresa familiare, dove effettivamente il rischio contagio era davvero annullato. In realtà l'emergenza era talmente grande che c'era anche un problema legato ad eventuali infortuni sul lavoro, collegati poi all'impossibilità da parte del sistema sanitario di sorreggere anche eventuali incidenti che dovessero essere avvenuti in luogo di lavoro. E quindi ci siamo dovuti arrendere, diciamo, all'evidenza che doveva esserci uno stop totale. Il settore del benessere è stato quello che ha aperto più tardi degli altri, insieme alla ristorazione, al catering e al settore del fitness, per esempio. Diciamo che adesso il settore del benessere sta lavorando a pieno regime, quindi sta recuperando, con le difficoltà ovviamente di rispettare tutti i protocolli della sicurezza che vengono rispettati. C'erano comunque anche prima degli alti livelli di rispetto della sicurezza per queste attività. È chiaro che adesso lavorare tutto il giorno con la mascherina, la visiera, i guanti e soprattutto anche per i clienti, soprattutto le persone anziane fanno molta fatica. Però diciamo che è un sacrificio che dobbiamo fare. Su questo ci tengo veramente a dirlo. Dobbiamo avere pazienza, essere tolleranti, perché il rispetto di questi protocolli di sicurezza è fondamentale per uscire da questa problematica, perché altrimenti non esciremo più. Abbiamo visto che il rispetto delle regole è stato proprio fondamentale per uscire dalla fase emergenziale ed aprirsi alla fase 2. Quindi davvero tanta pazienza, però questo è l'unico metodo. Certo, anche perché sappiamo, Presidente, adesso siamo confortati dall'andamento della curva epidemiologica, che comunque in tutto il Veneto denota un andamento in decrescita, quindi positivo, se così possiamo dire. Però gli scienziati non escludono una possibile nuova ondata del virus. Quindi dobbiamo imparare a convivere anche riadattando quelle che sono le modalità lavorative. Sappiamo che anche molte aziende artigiane si sono reinventate, giusto? Assolutamente sì, reinventate proprio dal punto di vista pratico, quindi convertendosi ad altre tipologie di produzione, come le mascherine, le visiere, oppure adattarsi a nuove esigenze del mercato in generale. Io credo che già da prima c'era questa necessità di flessibilità e di riadattarsi e reinventarsi ogni giorno. Adesso questa esigenza è proprio esplosa, è andato tutto all'ennesima potenza, e quindi credo che però la flessibilità connessa alle dimensioni piccole delle imprese artigiane sicuramente possa aiutare questo. Ci vuole però uno spirito sicuramente votato all'ottimismo. So che è difficile, però bisogna crederci. Credo però che la riapertura abbia comunque dato un segnale positivo e di incoraggiamento alle imprese. Ci siamo tutti rimboccati le maniche, abbiamo tutti adeguato i nostri spazi in maniera che non ci fosse il pericolo di contagio. La formazione ai dipendenti, tutti hanno accettato le nuove regole e se ci saranno, ci sono già anzi, lo dico, nuove regole del mercato, bisogna adattarsi. Ma serve veramente avere grinta perché al di là di un ritorno dell'emergenza, noi dovremo essere comunque sempre pronti, proprio perché l'attività del futuro sarà così. Sempre tra alti e bassi cicli e necessità di cambiamento. E quindi essere intraprendenti anche appunto sul mondo del lavoro. Lei ha accennato, Presidente, alla parola formazione. Proprio di recente si è svolta l'inaugurazione delle vostre nuove aule dedicate alla formazione presso la vostra sede. Sappiamo che lei punta molto, l'associazione punta molto sulle nuove competenze, giusto? Sì, ed è ovviamente una conseguenza di quanto ho detto prima. Il mondo cambia, cambia velocemente, succedono delle cose che noi non possiamo controllare e tanto più le imprese devono essere al passo con questi cambiamenti. Non possiamo più fossilizzarci, essere in balia degli eventi e quindi la formazione. Non più esclusivamente formazione obbligatoria che spesso gli artigiani hanno veramente tacciato come una cosa pesante, un'incombenza che veramente gravava sia a livello economico che a livello di tempo. deve cambiare proprio la forma mentis, in cui la formazione deve servire proprio per stare al passo con i tempi, per guardare al futuro con altri occhi ed essere veramente sempre sul pezzo, perché è fondamentale che ogni giorno l'imprenditore sappia cogliere quelle che sono le novità del mercato, della società, della cultura, perché è tutto veramente in rapida evoluzione. Vediamo come ci siamo dovuti adattare dall'oggi al domani a fare formazione a distanza, piuttosto che videoconferenze, ma diciamo a parte qualche piccolo problema tecnologico iniziale, mi pare che ci siamo davvero adattati tutti, noi imprenditori, i nostri dipendenti, gli studenti, gli insegnanti, quindi davvero io credo che abbiamo una grande capacità di adattamento e su questa dobbiamo davvero puntare, perché sarà la chiave per il futuro. Quindi diciamo dalla pandemia in qualche modo cercare di trovare anche qualche aspetto positivo, perché sappiamo che sarà una nuova normalità, non sarà più quello che eravamo abituati a conoscere, la realtà lavorativa, ma anche il mondo, la realtà appunto della società in cui siamo immersi. Parlando di novità, comunque Presidente, la vostra sede per chi arriva in Piazzale dello Stadio, può vedere, può mirare anche una veste, se vogliamo, rinnovata anche da un dettaglio particolare. Sì, finalmente, perché è un progetto che dura da mesi, ma poi tra una cosa e l'altra, e poi anche lo stop per il coronavirus ci ha impedito di portare a termine questo progetto, che è collegato al progetto Mirabilia Dolomiti, cofinanziato dalla Camera di Commercio, che ringrazio per l'opportunità che dà per dare, per fare crescita. Allora, spieghiamo bene di che cosa si tratta. Sì, il progetto Mirabilia è un progetto che noi abbiamo creato per dare spazio e visibilità alle imprese del settore artistico. L'artigianato artistico troppo spesso è confinato nelle pareti delle botteghe e invece deve uscire. Deve uscire perché è eccellenza, è qualità, è lustro per il nostro territorio e quindi ci siamo resi conto che serviva a dare un input a queste imprese che davvero avevano molto da dare. Molto da dare proprio a tutto il territorio che, con la vocazione turistica che ha, non può davvero non comprendere questa tipologia di prodotto, perché di fatto è un prodotto turistico, è il suo stesso anche l'artigianato artistico. Quindi abbiamo raccolto le adesioni, abbiamo fatto un lavoro con queste imprese anche affinché avessero consapevolezza del fatto che sono risorsa non solo per loro stessi ma anche per il territorio. E quindi abbiamo dato uno strumento informatico creando un sito web, quindi dando una visibilità web. E poi abbiamo fatto una vetrina. Ecco quindi la nuova veste della nostra sede, con questa vetrina che si affaccia al Piazzale della Resistenza e contiene tutti i prodotti di queste imprese aderenti al progetto ed è sicuramente bello da vedere. A me è piaciuto fare questo in questo momento perché deve passare il messaggio che gli artigiani sono importanti e non dobbiamo mollare perché davvero abbiamo un'importanza strategica per il nostro territorio e ci meritiamo un futuro. Siamo partiti con lo slogan quando c'era la chiusura del settore benessere e io l'ho trasformato dicendo ci meritiamo un futuro. Davvero è fondamentale credere, credere in noi stessi e credere che dobbiamo tenere duro nonostante le difficoltà perché davvero il nostro ruolo prima o poi uscirà e saremo premiati in qualche modo. Io ci voglio credere. È fiduciosa, dobbiamo essere fiduciosi tutti. Senta Presidente, ovviamente noi tocchiamo alcuni temi perché sono tantissime le attività, le iniziative che sono state portate avanti in questo tempo, insomma che caratterizzano la vita dell'associazione che tra l'altro con l'inaugurazione proprio delle nuove aule informatiche in presenza anche se contenuta ovviamente ma si è aperta ufficialmente a questa nuova fase anche per la vita stessa dell'associazione che parte proprio dalla formazione. Ma fra i vari temi diciamo voi siete stati, diciamo avete assistito gli artigiani anche sul fronte della liquidità, i temi relativi all'eco bonus, all'accesso al credito. Ecco, ci vuole fare una fotografia, una panoramica su questo? Sì, la cosa importante che vorrei trasferire rispetto alla liquidità e all'accesso al credito abbiamo fatto un incontro aperto a tutti gli associati con il contributo del Consorzio Veneto Garanzie che è il nostro consorzio appunto che si dedica alla liquidità e alla concessione di credito per i nostri associati attraverso una garanzia. La cosa che ci tengo a dire è che sicuramente in questo momento c'è un problema di liquidità e ci sarà anche per i prossimi mesi. Quello che ritengo importantissimo trasferire è che l'associazione è un punto, deve essere un punto di riferimento su questo. Sicuramente noi e il nostro consorzio del credito devono essere un luogo dove ci si possa confrontare in maniera veramente serena e dove si possa avere la sicurezza che ci sono delle persone dalla parte dell'impresa e dell'imprenditore. Attenzione a questo, voglio proprio sottolinearlo perché si affacciano anche pericoli rispetto a questo tema abbiamo fatto degli incontri anche con la prefettura sul pericolo di infiltrazioni della criminalità pericolo di usura rispetto appunto a situazioni disperate da parte degli imprenditori. Allora io auspico che veramente l'associazione venga usata perché è giusto che in questo momento si tenga presente che l'associazione deve essere un punto di riferimento quindi si può tranquillamente andare in banca ma fate un passaggio anche in associazione perché una consulenza in più, un confronto in più possono essere davvero fondamentali per avere le idee chiare e non fare passi falsi perché è davvero da stare attenti per qualsiasi operazione si faccia in questo momento rinviare le scadenze dei mutui aprire un nuovo finanziamento sembrano cose facili perché abbiamo sentito insomma che è stato pubblicizzato questo accesso al credito facile, agevole non dimentichiamo che ci stiamo indebitando o stiamo posticipando nel caso appunto decidiamo di bloccare le rate del mutuo stiamo posticipando l'impegno quindi è meglio parlarne ed è meglio fare un'analisi a 360 gradi della situazione della propria impresa quindi non fare passi in maniera superficiale su questo tema perché è fondamentale pena dopo una situazione pesante per l'impresa che potrebbe anche non garantire il futuro dell'impresa stessa quindi attenzione davvero l'associazione è a disposizione su questo abbiamo parlato presidente di vari argomenti abbiamo citato comunque anche il turismo abbiamo citato direttamente il lavoro la pandemia ha coinvolto anche un altro settore molto molto importante per la società tutta che è quello dei trasporti innanzitutto anche una fotografia il settore dei trasporti è stato uno di quelli maggiormente in crisi durante il periodo del lockdown voi adesso avete ideato anche una particolare iniziativa proprio per dare un aiuto al territorio su questo fronte di che cosa si tratta? sì, noi l'abbiamo proposto al tavolo provinciale dei trasporti dove c'era presente anche Dolomiti Bus che è la nostra società di trasporto pubblico avevamo anticipato la nostra idea con una lettera in provincia Dolomiti Bus e anche al direttore generale dell'ULS proprio per metterci a disposizione quindi i nostri operatori NCC ma anche i bus operator a seconda delle esigenze in questo momento sono totalmente fermi perché molto collegati al turismo io direi quasi del tutto collegati al settore turistico NCC sono, ripetiamolo bene anche per i nostri telespettatori? sono i trasporti con conducente quindi la nostra proposta è nelle zone periferiche della provincia dove magari non tornano i conti rispetto a un bilancio di trasporto pubblico dove magari far andare una corriera in un posto periferico con due utenti a bordo non è effettivamente, è antieconomico riteniamo però che sia fondamentale che in questo momento ma non solo in questo momento tutta la provincia sia collegata non devono rimanere zone in cui non ci si può collegare al centro all'ospedale a qualsiasi esigenza e di conseguenza noi per la politica che facciamo contro lo spopolamento delle zone periferiche e l'abbandono abbiamo appunto proposto di supportare attraverso eventuali accordi il trasporto pubblico locale quindi adesso c'è anche la proposta di fare appunto delle corse a chiamata credo sia molto interessante perché in questo modo ci fossero anche due utenti tre utenti e invece che far partire una corriera si può far partire un conducente e poi appunto con un accordo con Dolomitibus e con la provincia garantire comunque un servizio alla popolazione, ai cittadini che non deve venire meno questo è fondamentale quindi noi ci siamo messi a disposizione con le nostre imprese che fanno questo mestiere e credo che possa essere un vantaggio duplice sia per le nostre imprese che in questo momento sono ferme e quindi potrebbero avere un vantaggio sia per il trasporto pubblico locale che potrebbe toccare tutti i punti anche periferici della provincia che in questo momento appunto non sono tutti coperti dal servizio certo, questo ovviamente avrebbe anche delle ricadute insomma aiuterebbe presterebbe il fianco al grande tema che è quello di combattere lo spopolamento ovviamente della montagna del territorio bellunese Presidente mi sembra che abbiamo fatto una bella panoramica delle attività ovviamente ci ritroveremo per parlare non abbiamo parlato della zona economica speciale ma insomma sicuramente ci ritorneremo anche quella una battaglia insomma in cui Confartigianato Imprese Belluno crede molto io la ringrazio per essere stata qui con noi grazie a te e a tutti quanti voi auguro una buona serata arrivederci